Allora mister, rispetto all'andata, che cosa è cambiato nell'Avezzano che hai incontrato e soprattutto che cosa è cambiato in voi, che siete riusciti chiaramente a portare a casa entrambi i risultati? In noi è cambiato che siamo più squadra, siamo senza dubbio più squadra, lo siamo per tutta la durata della partita, lo siamo nell'arco della settimana e lo siamo quando riusciamo a esprimere un calcio offensivo, come è successo per 65-70 minuti, e lo siamo quando c'è da difendere e da riportare a casa un risultato preziosissimo e di una importanza fondamentale per la nostra stagione. Mister, in una battuta lo dichiariamo l'obiettivo del Porto d'Ascoli? L'obiettivo del Porto d'Ascoli è che con 31 punti al momento non si ottiene nulla, questo è penso matematico e nel momento in cui i punti, speriamo, cominceranno a diventare di più noi chiaramente vogliamo rispettare le ambizioni del nostro Presidente e della nostra società, che è quello di portare questa realtà a fare un passettino in più rispetto alla scorsa stagione. Però prima c'è un obiettivo fondamentale, perché il Porto d'Ascoli che si approccia alla Serie D, in questa Serie D e in questo girone, come obiettivo ha la salvezza e questo non ci piove. Nel momento in cui l'avremo in mano, perché speriamo di averla in mano, chiaramente non ci tireremo certo indietro, però ripeto, noi siamo focalizzati in maniera totale su quello che è il nostro obiettivo principale. Direi che l'avversario è un avversario importante, lo sta dimostrando oggi in campionato, ma lo ha dimostrato anche l'anno scorso. Rispetto all'anno scorso hanno mantenuto la stessa interagliatura di squadra, aggiungendo addirittura qualcosa, quindi sicuramente abbiamo affrontato una squadra forte. A me e io sono molto dispiaciuto per il pubblico al quale chiedo scusa, perché oggi sono accorsi veramente in tanti e ci aspettavamo tutti una prestazione diversa, un risultato diverso. Purtroppo non siamo stati capaci di portare la partita dalla parte nostra, non perché non ci sia stato l'impegno, anzi i ragazzi ce la mettono sempre tutta, però purtroppo ci è mancato quel qualcosina che ci potesse portare alla vittoria.